Veloce veloce così non sembrava dei coglioni in macchina che parlano una videocamera va Allora Salve a tutti Da l'SMT Da S H Che uomo E tu cosa cazzo sei da raffreddare gente? 6N figa Per il mitato al momento Siamo qui a Cameri Provincia di Novara A fare una bella giocatina Con Quante cazzo di macchine ci sono dietro raga? Eh tante E li continuano ad arrivare Saremo una quarantina di persone Ora ovviamente dovrà essere molto Taglierò Qua taglio ciao Ci vediamo al giocato Ciao Ragazzi Io andrei a mettere Guarda Lì c'è il fiume Quindi io Cominciamo da lì E ci allarghiamo Oh siamo in gioco Neg Sì perché saranno partiti ora Allora ragazzi Qua c'è il fiume Della sinistra non possono arrivare Uno che andiamo facendo tutti i giro di là A casa di Cristo Quindi cominciamo a metterci Uno là Uno qua E poi uno di là Ragazzi Sì Voi due mettetevi in quel bosco qua Io e Hopi siamo di qua Va bene Con il cos'è il cos'è il fiume E' il cos'è meno non riusciamo Sono avanti i mici Sono avanti i mici? Sì qua ci mettiamo Buonasera buongiorno a tutti quanti da SMTRsoft Eccoci qua per un nuovo gameplay boschivo Tenuto a cameri Con due videocamere Una sulla mia testolina Una sulla testolina del T Quindi per la prima volta vedremo anche il T-cam Questa giocata qua si vedrà tutta Tranne un piccolo pezzo che taglierò fra poco Perché eravo a un fermo immobile Quindi è inutile Ho visto movimenti dietro dove sei te Qui te tu riesci a vedere dei nemici No Non frulla No Tranquilli Mamma mia Che zarro Allora Eravamo in 60 persone Ci eravamo divisi in due squadre In questa piccola immagine di paint Ma non anche quando sono bravo Nel riquadro blu C'eravamo io e H Che poi ci sposteremo E cercheremo di fare il giro Da seguendo la linea blu E quindi cercare di andare a prendere i nemici Nel riquadro giallo C'erano il T e N Neg E invece nella parte centrale Era l'obiettivo che i nemici 30 nemici Dovano riuscire a prendere E di sfiltrare Ora qua io e Hop Stiamo cercando di andare a fare un giro Di aggirare il nemico Questi sono amici Avete contatto? Avete contatto? Chiedo se c'è contatto E mi rispondono che c'è contatto Tutto davanti a noi Qui la videocannone mi si è abbassata Scusatemi ragazzi Davvero davvero tanto Scusatemi Comunque i ragazzi lì sono della Mercedire Soft Come correte tuzzo Ok Gli altri 49 Allora Paolo È tornato di là Allo scontro E adesso qua arriverà qualcuno Quanto pare Non lo so Prepariamoci a riceverli Io non vedo Ancora torniamo Ecco le micoli che si vede Lì si vede Lì si vede Lì si vede Ancora torniamo Ecco le micoli che si vede Lì a destra Io non l'avevo visto Perché ero concentrato Dove caccio è? Prima sull'estrema destra E poi sull'estremo sinistra Ecco l'ho preso Lì ce n'era un altro Da dietro Questi arbustini qua Era duro Cioè io lo vedevo benissimo Eppure 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 ciao E' un po' scoperto Secondo me lì vai benissimo Sì ma Lascia di venire E li sistemo io Vabbaviglio Ancora qui mi sposto Per cercare di avere più tiro utile Lo sparo contro E' un lontano Qui l'ho fatto Caccare addosso E adesso lo prendo Adesso Oh preso 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 Con le moto Con le moto Ragazzi Con i lì lì Sono amici o nemici Eh io vado Stai pure qua Vado avanti un pelo Sì li ho visti Mamma mia Sì dietro C'abbiamo un egg No ha detto di buttare un occhio Anche lì dove sei te Ah non ci arrivo Queste sono le casette Lì davanti c'è il babbo Natale Da difendere Ora qua comincia la mia avanzata Avanti ci sono dei nemici Dai che senti colpo adesso Dai Vabbè tagli Oh alleluia E' uno Questo è uno Vai C'è ancora uno Su un albero Sto scappando Avanzo 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 Vai Un job I mercenari Tieni uno in fondo Ragazzi A vostra ora è una Mi tiene sotto E non posso avanzare Guardate come lo prendono Ottimo Ottimo lavoro La squadra Complimenti Ragazzi Tentemelo giù per favore Mi allargo Ed cercherò di Soprare il putt Sì sì l'ho visto L'ho visto Ascoltate bene Preso Preso Io l'ho preso 20.000 volte Anch'io l'ho preso Entrambi avevano smesso di sparare Perché pensarono di aver colpito il bersaglio Che era una venti di metri avanti E' indietreggiato Erano completamente stralunati Per il fatto che non si fosse dichiarato Che entrambi pensavano di averlo colpito Ora Sto girando Sto facendo giurto Quanto dalla destra del campo Qui sono affiancato sulla sinistra All'inizio del campo Di là Dai mercenaie Penso a te L'abbiamo preso E' scappato via Anch'io 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 Non volevo insistere Aspettavo che faceva così Ma che Penso che non ci sia bisogno aggiungere nient'altro Beh dai però Qua non... È il solito È il solito E non si è dichiarato fino alla fine Non sono riuscito a prenderlo Ora qua comincia la nostra continua Avanzata Verso il campo dove c'è Babbo Natale da difendere E quindi L'aggiramento finale del nemico Verrà concluso in questi 5 minuti di video Qui eravamo in 4 di la sinistra 4 dei mercenari Forse erano anche un po' di più Forse erano in 6 Non mi ricordo esattamente comunque Di qua invece eravamo io con questo signore E là dietro un amico di questo signore Si allargerà Per Riuscire a coprire ancora maggior campo Ragazzi qui faceva veramente freddo Maledizione Quanto frutto faceva Passando in queste cazzo di pozzanghere qua Ma Era un massacro ogni volta Qui praticamente il gioco è finito Il game è finito Ad aver raggiunto I miei compagni hanno detto Qui sono tanti nemici vicino alle case Quindi sono lì davanti Ragazzi Mi hanno detto in radio Tanti nemici vicino alle case Ma non sono nella posizione Qui mi rispondono che effettivamente Le avevano già ammazzati Perché ora si vedrà tutta la mandria Dei non fascettati di bianco E là che sono tutti quanti morti Eh l'abbiamo giocata bene Abbiamo giocato veramente bene In modo tattico In modo unito Coeso Bello Mi è piaciuto Quelli sono tutti i miei morti Adesso qua Da di qui a poco finirà Non c'erano più neanche uno Ed eccoci qua Cari ragazzi Io spero davvero Che vi sia piaciuto Questa giocata In questo Con questa modalità Di visione E siamo due in te Arriverà il secondo episodio Che sarà qualcosa di molto 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 più incredibile E spero Ripeto che vi sia piaciuto Da essere semiti è tutto Da essere semiti è tutto Alla prossima giocata O Chiamare l'uccisione Perché se Sei troppo vicino Preferiamo non sparare E chiamare direttamente Fuoco 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 Morto 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 Ciao ciao Oh anche tu Ciao ciao E loro due Secondo me è il DCS Allora esteticamente È molto carino Questo sinistrazione Gli dà un bel tocco Il riso Nell'anteriore Gli puoi infilare di tutto Anche qualsiasi posizione Quasi